Rieccoci qui nella vita in città, mi viene da parlare un po' piano perché quest'oggi fare il grande giorno Lo so! Io sono un po' in ansia, cioè, sono un pochino preoccupato, mi spaventa un po' Ciao Gabby! Ciao Gabby! Mi sa che è preoccupato anche lui comunque, eh? Anche secondo me! Vero? Penso che oggi siamo tutti un pochettino tesi, come delle corde di violino, Steph Assolutamente sì, perché quest'oggi dovremo rapinare la banca, e la cosa mi spaventa assai Allora, Fere, ho preparato il piano, ci sono varie cose che dobbiamo fare prima di iniziare Quindi iniziamo ad andare in giro In primis, benvenuta nel nuovo negozio di vestiti Ma di fronte a casa nostra! Già, e sembrano bellissimi Che bello! Guarda quello da pecorella, che bello, rosa! Vabbè, un po' buffo, però va a ridere Da tutte le lettriere puoi vedere tutti i costumi disponibili No! Potrei fare Spider-Man Pure da supereroi! Ma che bello, Steph! C'è quello da maialino Fantastico! Di fare vendetta, è pieno zeppo Dobbiamo scegliere un vestito, perché? Perché ovviamente ci dobbiamo far riconoscere durante la rapina Ah, quindi andremo travestiti! Certo, Fere! Ah, bello! Quindi inizia a scegliere quale vuoi Io penso di aver deciso Perché secondo me è super a tema Sperando che Gabby non pensi la stessa cosa Vediamo un pochettino Dove lo vendono? Qua non lo vedo Potrebbe essere da questa parte Altrimenti potrebbe anche non essere disponibile Quello che mi interessa Mi sa che non è disponibile Quale vuoi prendere? Cioè, quale volevi? Visto che poi non è disponibile Quello di Joker, Fere Ah! Era super a tema Io non so se prendere qualcosa da super eroe Sai com'è? Danno un po' nell'occhio No, che mi ha preso quello da pecora No, da pecora, no Era l'altro succhiero indeciso, te lo dico Allora io prenderò quello da troll O da vi per vendetta Mmm, bello anche quello Vero? Ma c'è anche quello da biscottino di Natale Ma è bellissimo C'è quello da biscottino di Natale? Allora, vediamo un po' Ecco, parlo con i commessi, Fere Vedi tutto quello che c'è disponibile Ah, ok, salve Cosa c'è? Ah, ecco lì Allora, io voglio la maschera sua Poi prendo Li puoi anche mischiare Se proprio uno non ti piace o non ti convince È quello che sto facendo, Fere È quello che sto facendo Allora, io mi travestirò in questo modo Eh? Chi mi riconosce, Fere? Sei bellissimo, però Chi mi riconosce adesso? Guarda che sei benissimo, Steph Io avrei bisogno di un consiglio, però Perché quelli che voglio non ce n'è neanche uno Quindi cosa mi consigli di prendere da Super Mario? Farebbe molto ridere, ti dico la verità No, ma io e Gabby abbiamo fatto uguale No, non ci credo Ma allora ce ne stiamo tutti a tema Ha cambiato Lui ha cambiato, è diventato una pecorella Fere, non lo so Scegli qualcosa che può essere adatto Potresti prendere quello da Super Mario Da Super Mario è bellissimo Quello da Super Mario è molto carino Sì, secondo me quello da Super Mario è quello che ha dato Vai, compramelo Io non ho soldi, quindi Ti stavo chiedendo un consiglio solo per quello, Steph Ah, quindi in realtà Sì, sì Io non ti compro Io non ti compro gli stivali Cioè, ne ho pochi Le mie guardie non li assume nessuno Ora c'è tutto questo fermento per la rapina in banca E nessuno mi calcola più, Steph Quindi Gli stivali non mi hai preso No, perché risparmiamo Così impari Dai, Steph E io non ce li ho gli stivali Quindi devi risparmiare Ma la mia faccia è scoperta così Beh, però non ti riconosci Sei troppo brutta per essere riconosci Ti sta malissimo Ma proprio male, male, male Perché mi sta così gigante? Steph, hai sbagliato taglia Mi hai preso una XL Spera, c'è solo questa Non rompere le scatole Porca miseria Ho sbagliato la mia taglia Allora, seconda cosa di questo oggi Steph, se puoi fare un cambio? Voglio il vestito che hai tu No, mi sta troppo bene per toglierlo a fare Sono bellissimo Allora, la seconda cosa di questo oggi Dopo il travestimento per non essere riconosciuti Però aspetta che tolgo almeno la maschera Perché altrimenti penseranno Ma chi è questo? E non mi vendono le cose Se ti ricordi Stavamo aspettando il quad Dovrebbe essere pronto Ole Eccolo qua Eccolo qui Ciao Enrico Grazie mille Il quad rosso finalmente pronto E lo utilizzeremo Lo proviamo subito Come veicolo per la fuga Non c'è la benzina Allora Bravo, comprala, comprala Allora No, ma guarda quanto costa E lo so, è cara la benzina Però l'altra volta era compresa Ma mi scusi, eh Allora, fammi fare Ma dimmi te Qui davanti, Steph Qui davanti, vedi? Dov'è, dov'è, dov'è Qua sotto il manubrio No, no Steph, devi Lo so Fai attenzione Ce la stai facendo? Sì, sì, sì Stai mettendo benzina Ma dobbiamo fare una rapina oggi Ma perché sono qui a mettere benzina? Ma non lo so Vabbè, dobbiamo preparare le cose Non abbiamo qualcuno Che le prepara al posto nostro Lo so Steph, io voglio una maschera Allora Opla E opla Ok Uhuh Fare dove sei? A comprarmi una maschera Ma dobbiamo provare il veicolo assieme Eh, l'ho capito Ma il costume mi va bene Voglio una maschera però Senta su Perché sono troppo riconoscibile Steph, ho paura Ma è velocissimo Ma è bellissimo È molto veloce Molto veloce Ma guarda che belli Che stiamo qui assieme sul quad È fantastico Sono troppo carini Abbiamo fatto super bene a prenderlo Allora, quindi cosa prendi? È una maschera Prendi quella da pecorella Eh, ma non è la stessa che Gabby Eh, se no prendi quella da hacker Dammi per vendetta Ce l'hai 50 Poi te li rendo Non ho il cambio Quale vuoi? Eh, forse quella da Dai, quella da pecorella O quella da troll Quella da troll Quella da troll Quella da troll È fisso indecisa, Fere, oggi, eh E lo so perché mi piacciono tutti Vai Facci vedere un po' come risulti in questo modo Secondo me sarà comunque brutto Sì, Fere, sei bellissima Beh, facciamo scambio di maschera, ti prego Dai, ti scusi Fere Stem, non voglio spendere altri soldi di Fere Sono io qui per vendetta Andiamo, forza Perché io volevo, guarda, ti faccio vedere Io volevo questo costume qua Vieni, vieni L'ho capito Vieni, vieni Questo Questo è il secondo Oppure quello da biscottino di Natale Eh, ok, non ci sono Però non ce n'era neanche uno È solo orribile Fere, appena aperto Lascia in pace Allora, altra cosa da fare Non c'è bisogno di prendere il quad Ok A parte che il quad lo dovremmo posizionare in un punto specifico Perché sarà il nostro veicolo per la fuga dalla rapina Prima di andare a rapinare Io ho bisogno di un backpack Perché abbiamo bisogno di tanti spazi per i soldi Di uno zenetto, quindi Esatto Sì, sì, sì Quali scegli? Allora, prendo quello di Pikachu Bellino Però c'era anche questo Guarda che bello questo Aspetta Questo da Enderman Wow, strabello No, mi stai convincendo solo perché quello da Pikachu ti piace anche a te Lo vorresti anche tu No, a me va benissimo Tieni, l'ha dato a me Il destino Allora Fai vedere? Aspetta Come si indossava, Fere? Lo sei tu Ah, aspetta Si faceva così e così Opla Eh? Certo che è vestito così con uno zenetto da Pikachu Vabbè, non dico nulla Però in qual è il tasto per aprirlo? Ok, l'ho indossato quindi B Ed eccolo qua Dovrei avere tanti spazi per rubare un sacco di soldi Cioè, per fare la rapina Però non dobbiamo rapine Non vanno dette le cose vocelle in questi momenti Allora, a questo punto dobbiamo posizionare il nostro veicolo Quindi salta su Nel posto da cui noi faremo la fuga Ovvero dal negozio delle guardie di Fere Perché abbiamo fatto fare a Marci Un sotterraneo aggiuntivo Che porta fino a lì Quindi ci lasciamo il veicolo tipo qua Così Vediamo un po' Voglio vederlo questo sotterraneo però, Steph No, vabbè, lo vediamo dopo, Fere Come dopo? E tanto dobbiamo prendere per fare la rapina Vabbè, vabbè Bello il parco giochi! Di fronte al mio ufficio! Strabello! Fere, non è il momento, per favore Un pochino sì Non è il momento Andiamo Forza 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 Fere Scendi Vabbè, Steph Mi sto divertendo prima di finire in carcere Una cosa Vieni, vieni dentro Guarda Ma il nuovo negozio è pure questo? Che cos'è? Sono statuette tipo funco Che puoi comprare e mettere a casa per arredare Fere Ma io le voglio tutte Le voglio tutte! Le voglio tutte! Ho preso il backpack per avere più spazio Altri Certo l'altro E' vero, ovvio Guarda che sparo, eh Quanto ci vuole Siamo davvero minacciosi in queste condizioni Però aspetta, aspetta Aggiungiamo la maschera La maschera giusta Guarda come sono cattivo, Steph E' bruttissima Aspettiamo Gaby, va Ehi ragazzi, sono arrivato Vieni, vieni, vieni Forza, forza, forza Ok, perfetto Ok, aspettate Allora, ragazzi Una cosa Al mercato c'erano talmente tante maschere Che le ho prese tutte Come fai, Rene? Super Mario No, io ho preso il vestito da Super Mario Ma voi mi sono resa conto che il cappellino non mi copre la faccia Quindi poi ho comprato questa Ma è la cosa più brutta che io abbia mai visto Oh, cavolo Eh, senti fare Ora che ci ho pensato Guarda, io ho questa bellissima maschera Da pecora Che secondo me è un po' più femminile Anche secondo me Eh, quindi Magari facciamo cambio Ecco Tieni Vi rendete conto che dobbiamo fare una rapina, vero? E che il vostro look conta poco Come sto adesso? Sì, però è comunque È bruttissimo Alla fine, è una cosa che si fa una volta nella vita Almeno se dobbiamo farlo Facciamola in modo facile Perché la foto ricordo di Eh, no, ok Allora c'è quella di Super Mario Anche il cappellino I zami Oppure quella Che questa ce l'avevi tu Quindi non posso metterla Ok, io ho capito Devo prendere quella da troll Però a te sta bene A te sta meglio però A te sta meglio Ma in effetti con la barbetta Sì, sì, ci sta bene Sì, sì, ci sta bene Ok Mi piace Allora, noi abbiamo preparato tutto E mi sono preso questo bellissimo backpack di Pikachu Perché così ho più spazio per rubare Super all'ultima moda Infatti, ho visto che avevi un backpack Allora ho rimediato preso quello da pecora È fatto bene Molto bello Che è il tuo Pera è quello da maialino Poi abbiamo spostato già il tuo veicolo Nella zona designata per la fuga Perché se ti ricordi Abbiamo fatto fare il tunnel a marci Che porterà direttamente al negozio di ferie Quindi da lì poi fuggiremo con i veicoli Andremo nella zona residenziale E ci nasconderemo da Yuri Questo è un po' il piano Dobbiamo star pronti col fucile Ce l'hai ancora dall'altra volta? Sì, sì Non sai che fatica a nasconderlo però Lo so, lo so Siamo abbastanza minacciosi con le maschere e i fucili Sì, decisamente Veramente, facciamo un po' paura Sembra un episodio di payday Esatto È il momento Andiamo? Ok È il momento di scendere ragazzi Andiamo Ancora tipo mi fa strano vederti sparire Dietro questo sistema olografico di muro finto Anche a me, sinceramente È un po' strano Adesso ci tocca camminare un bel po' Oh ragazzi Eh, lo so Vedete di non stancarvi troppo che ci servono energie per la fuga Beh, sai una cosa? Mi viene da pensare il povero Marci qui solo Lo so Mentre si mangiava ogni tanto un oreo e scavava tipo Ha fatto un gran lavoro, è stato bravissimo Adesso vedrete, qui alla destra c'è il suo nuovo tunnel Che è quello che ci permetterà di fuggire Quindi quando scenderemo di nuovo da queste scale dovremo andare di qui Perfetto, perfetto, tutto chiaro Mentre salendo da qui saremo dentro il capo Allora, chi sale per primo? Eh, Steph Eh, sei tu l'artefice del piano Quindi è meglio che vai prima tu Vai strada Vado Ho un po' paura ragazzi Aiuto Ci siamo? Sì, 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 sì Ti stiamo seguendo Esatto, avanti voi Prima del signore Ragazzi abbiamo un problema Ok Cosa? Ci sono delle guardie Oh, 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 oh Fermo, Steph Aiuto Io non mi sono se riesco Ok, gli ho sparato un colpo Ok Schifo Ma come mai ci aspettava questo qua? Evidentemente Yuri ha scoperto qualcosa ragazzi No, 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 no Allora dobbiamo fare in fretta Aprite tutte le cassaforti Prendete tutto quello che trovate Ok, prendo soldi, prendo soldi Ok, ho paura Ragazzi, ma quanti soldi ci sono qui dentro? Ma è assurdo Assurdo, non ne ho mai visti così tanti in vita mia Io sto già riempiendo il backpack e sono ancora all'inizio Aspetta, qual è il tasto per aprire il backpack? È B, è B Ok, ok, ok Prendi, prendi, prendi Allora ci siete, ci siete Ok Prendo queste No, sono caduta Attenzione, anche io prima sono caduta Si vede che è proprio un poliziatto Mettiamo tutto nel lottario Non è una normalità per me questa Si vede Mi sto citando, mi scelano dalle mani Ragazzi, io sto acchiappando tantissimi soldi Cioè, non so contarli Ma mi sembrano veramente tanti Cioè, diventiamo ricchi Anche a me se me ne sono davvero tanti Ok Allora Più che potete, ragazzi Più che potete Io sono praticamente pieno Io non ancora Se c'è qualcosa da prendere posso, eh Tipo questa qui sopra Io non ho più spazi Io non ho più spazi Questa qui sopra Questa qui sopra ce ne sono ancora Mangia un po' Ok 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 Ah come ti viene fame Siete assurdi È talento naturale Io ho tutto pieno Cioè, la borsa è piena Anche io Beh, sì Anche la mia Dobbiamo andare Lasciamo così? Sì Purtroppo, sì È tutto pieno Altrimenti c'era ancora qualche soldino, eh Eh, ma non abbiamo spazio Non abbiamo spazi, Fere Dobbiamo scappare Poi arriveranno in fretta Non possiamo star lì troppo tempo Infatti, infatti Meglio andare Aiuto Andiamo, veloci, veloci, veloci Ok Io ricarico anche i colpi del fucile per sicurezza È vero, vero Bravo, bravo Ricarico anch'io Andiamo, andiamo, andiamo Allora Dato che hanno scoperto tutto Potenzialmente potrebbero sapere anche di questa cosa Eh, Yuri è furbo Ti lascio un piccone per rompere un blocco finale A presto marci Ah Ok, vedete che l'ultimo blocco è ancora lì Perfetto Allora, prendo questo E cosa lascio qui? Lascerò il mio bambù Va bene Andiamo Forza, 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 forza Ok Ragazzi Ragazzi, ragazzi, ragazzi Sento dei rumori Sì, sento anch'io Sembra che qualcuno si stia sparando Esatto Oh no Ho scoperto anche questa No, ragazzi Ci sono le guardie di Yuri Oh, cavolo Cosa facciamo? Ragazzi, facciamo Forse è meglio scappare Stanno tutti combattendo Sì, sì Lascio il rischio Andiamo 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 Ragazzi Ragazzi Dove ci nascondiamo Eh, proponete Conviene andare in case separate Però la nasconde Sì, ok Io ho così tanti soldi Che potrei comprarne una Ma pensaci dopo, Gabby A dopo A dopo A dopo Ok, nascondo qui il veicolo Uh, mamma mia Steph Che ansia Che disastro Ma stanno bene le mie guardie Tenete i vestiti E lanciali qua dentro la piscina Dici Butto tutto Butto tutto Ok Ok, d'altronde non hanno visto chi siamo Devo buttare anche questo piccone E anche il fucile Basta, basta Tutto No Fere, magicamente ho 23 colpi del fucile a pompa rimasti Butta, 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 butta Ok, ok Ok, il veicolo qua non dovrebbero vederlo Allora Ti ho portato qui per un motivo E ci siamo separati da Gabby per un motivo Vieni con me Ok, qual è? Ti devo far vedere una cosa Cosa? Hai ancora il piccone, tu? Eh, io non ho mai avuto il piccone, Steph Devo recuperare il piccone Eh, ce l'hai tu Mannaggia Aspetta No, è troppo difficile Lo lasceremo qua Allora Ti spiego lo stesso le cose Praticamente E noi adesso abbiamo tutti i soldi Che dobbiamo restituire Ok Però io ho una rapina Quello probabilmente c'è una delle guardie Io non sapevo che vivi ancora contatti con i ladri, Steph No, no, no Però almeno hai fatto una cosa giusta Esatto E altrimenti, scusa, la nostra fatica non può essere non ripagata Appena ci rincontreremo con loro Noi diremo No, non ci teniamo nulla Tenete tutto Pensateci voi Blah, blah, blah Ok E poi in realtà Noi verremo qua successivamente Ci prenderemo tutti quei soldi Oh, bello È un bel piano Mi piace questo piano Perfetto, perfetto, perfetto Direi che possiamo andare a rincontrare gli altri Io lascerei qui il quad Così ci muoviamo Si lascialo, lascialo, Steph Un pochettino più stealth Perché ho paura che ci stiano ancora cercando Poi il quad fa tanto rumore Mentre invece a piedi possiamo essere molto più silenziosi Comunque per quanto abbiamo rubato a Yuri Secondo me se riusciamo a non farci acchiappare Lui sarà fregato e non avrà più soldi per gestire le sue guardie Anche secondo me, guarda che ne abbiamo presi tanti Poi eravamo in tre Quindi tre zaini pieni è molto Abbiamo preso sicuramente vari milioni Non so quanti Ma sicuramente alcuni milioni li abbiamo rubati Sì, sì, si ha voglia, voglia, Steph Allora, sembra che Gabby sia qua Non so Sì, 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 è qui, è qui, è qui Avviciniamoci piano, 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 piano Ok, allora Eccoci Ma c'è anche Marci che arriva? Penso di sì Ah, no, perché Marci vive lì a fianco Ah, è vero che quella è la sua casa Noterà così un po' sospette Ciao Marci, vabbè, lo sa cosa stiamo facendo quindi Ok Ok Ok, ok, ok Ciao ragazzi Ciao Eh, sì, avete forse notato che ho nascosto Lo zaino nella fornace Bell'idea Bellissimo Che furbo che sei Mamma mia, se metti un pezzo di carbone forse Ma quello, ricordiamoci di non farlo Esatto Dove possiamo nascondere i nostri? Perché Io ho paura di prenderli Perché voi volete nasconderli qua? Tutti a casa mia? Eh no, dovremmo andare da un'altra parte Steph No, è lui il poliziotto Lui li può difendere Però E poi Quindi se scatta qualcosa è tutta colpa mia Ah, puttela La mia idea è questa Convolgiamo anche Marci Tanto lui sa già di tutta la rapina del colpo Perché era dovuto fare il tunnel E chiediamo a lui di costruire un bunker segreto sotto terra Con tutti i soldi Però fino ad allora qualcuno li deve custodire Capi Eh, va bene C'è spazio Ci sono due slot in questa fornace O forse no O forse no Ehm Ci serve un altro metodo Ci servono delle ceste Probabilmente dobbiamo chiedere anche quella Marci Perché Qualcosa da nascondere Ma l'ho visto Marci prima Andiamo tutti da Marci Esatto Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Chi ne sei tu Beh, è Gaby, è Gaby Ma com'è Gaby Sì Sì, noi abbiamo già buttato i nostri travestimenti Però devi vedere come stavamo messi Marci Ma quindi se siete arrivati fino qua Vuol dire che ce l'avete fatta Esatto Grandissimi amici Ecco, per festeggiare prenditi questa ciambella Grazie a Dio Ciao a tutti Allora, vieni qui Scappa Vieni qui Entriamo dentro a casa ragazzi Hai preso lo zaino di Pikachu Anch'io volevo Bellissimo Sì, ma è pieno di lingotti d'oro Infatti, anche il mio pesa un bel po' Allora, sedetevi pure qua, qua, dove volete Insomma, sedetevi Sedetevi sui piedi Ok, ok Allora, ti spieghiamo Praticamente siamo riusciti a completare la rapina Siamo riusciti a scappare Ma le guardie di Yuri Sapevano in qualche modo quello che abbiamo fatto Ok Adesso il nostro obiettivo È quello di nascondere tutti questi soldi Dentro un bunker segreto Certo E sarà il tuo compito Perché Meglio di scavare Non c'è nessuno Quindi per adesso Terrai i soldi Gabby A casa sua Li prenderai tu nel prossimo momento Quando sarai un attimo più calmo Avrai sfruttato tutto Perché secondo me abbiamo bisogno di ossidiana Di blocchi abbastanza pesanti Che ci permettono Per fare un bel bunker E pensare tu a creare un bunker super segreto Dove tenere i soldi Perché secondo me È giusto che solo Gabby Tenga dei soldi dalla rapina Perché comunque Ha rischiato di perdere il lavoro Ha rischiato tutto Quindi lui si deve tenere un po' di soldi Mentre tutti gli altri Li teniamo lì dentro E vedremo in futuro cosa farne Super criminale Gabby Mamma mia Dai ragazzi Non dite così Voi lo sapete Che non l'ho fatto Per la casa Per i crimini E non sono ancora totalmente d'accordo Ma ormai Ormai è fatta Ma ditemi un po' Ma questo bunker Dove volete che io lo faccia Sotto la casa di Gabby Immagino che lui abbia comprato Questa casa di fianco No Non ha ancora comprato Credo E con chi non può cantare Per comprarla Sapete Non so Marci ne ha comprato una Quindi sicuramente Lo sa meglio Io l'ho comprata Sono andato in banca Ho fatto il mutuo Tranquillamente E insomma Beh tu puoi andare in banca E la stessa banca Che abbiamo rapinato Sarebbe un po' strato Ci inventeremo un modo E piuttosto Marci Hai dei posti dove depositare Delle c'è Ah la sua Possiamo usare la cucina Per adesso Guarda Tu puoi aprire tutto Quello che vuoi Occhio a non usare La cosa qui Che è quella del mutuo Della casa Perché se no Guarda quanti Ma guarda quanti lingotti Ok Ma io ho solo trovato Dollaroni Tu hai trovato I lingottoni Anche io ho trovato Un sacco di lingottoni E' questione di esperienza Ragazzi Questo è proprio il tocco Per caso posso usarne Un pochino Per pagarmi dei mutui No ma ci dispiace No non posso Solo Garci Ti sei già immischiato abbastanza Io sto depositando Tutto quello che ho Esatto Pure io Perché non voglio Proprio tenere comunque Dei soldi Di questa rapina Ma gli riempiamo la cucina Ragazzi Cioè Stiamo davvero pieni Anche io adesso Vorrei andare di là Nella mia mensola E trovare dei lingotti d'oro Dentro Si sta riempiendo tutto Vado ad aprire la mia cucina Non si sa mai Almeno un tentativo Ci troviamo qualcosa dentro Fortunatamente la cucina Di Marci è bella grande Quindi comunque Abbiamo ripetato Ma ci ha fatto tutto Cosa serve un cavu C'hai già il cavu Guarda qua Questa è la prima cucina Da tipo 5 milioni Nella sera Mamma mia Ma quanti sono esattamente Si sono di 5 milioni Abbiamo contati Allora Ci penso io Ci penso io Conto tutto Io non vi preoccupate A me fa un po' paura Sono tranquillo Perché tanto Siamo armati Quindi se lui Io sono super onesto Finirà molto male Guarda Marci ricordati Che questa cucina No ma Tranquilli ragazzi Non vi preoccupateci Penso io Faccio tutto io Ditemi solo dove volete Il bunker Semplicemente Che dite? Secondo me è un posto Che nessuno si aspetta Potrebbe essere Sotto il sindaco Esatto Eh robe del genere Poverino però È sempre stato così gentile Come mettere tutto là sotto Nessuno se lo aspetterebbe mai E poi potremmo fare Un sistema di tunnel Che sotto ognuna Delle nostre case Ci porta all'interno Di quello lì Esatto Bell'idea Bell'idea Bellissima Va bene Comunque ti lasciamo Tutto nelle tue mani Tanto sai come gestirtela Non vi preoccupate Gabi tu magari riprenditi Giusto Cosa ne so Tipo un 800 mila Per poterti comprare Le case eccetera eccetera Che ti hanno istrutto Anche casa Così vai a spenderteli E anche se poi Ti incastreranno Comunque le cose Le avrei già comprate E almeno quelli Saranno al sicuro Io e Fer Torniamo a nasconderci Per adesso E poi vedremo Comunque abbiamo depositato tutto Ma tanto ne abbiamo già casa Quindi non ci servono E ragazzi Buona fortuna Io non vorrei stare in una casa Con tutti quei soldi In questo momento Però So che me la camerete Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie per fortuna Andato a bere Ok perfetto Fer Abbiamo completato tutto E qua Ci sono i nostri Bello Nascondili però Stef Nascondili Nascondili Tranquilla 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 Qua il blocco Vabbè Lasciamo così Ok Leva anche la cassaforte Però attento Stef Era profondo Eh sì Fer Mi sono un po' incastrato E mo come esci Vabbè rimango qua Così sono anche più al sicuro Faccio così Perché io E ti tappo Ciao Stef Rimani lì Per sempre Ragazzi Noi ci fermiamo così Per questo video La rapina Siamo riusciti davvero A completarla Sono super soddisfatto Di questa cosa Ci siamo presi anche Comunque il nostro Gruzzoletto Ovviamente Non fate sapere nulla Agli altri Ma tanto so che qualcuno Farà la spia Quindi vedremo di Spenderle il più In fretta possibile Verrà eliminato Stef E sapete benissimo Cosa faremo Arriveranno le mie guardie A casa sua Non ti preoccupare Ti ricordi la promessa Che ti avevo fatto Fer Te la ricordi Quella dello zoo Esattamente Spenderemo i nostri soldi Per fare uno zoo E sarà lo zoo più bello Mai visto Ecco Stef Che risbuco Lo zoo più bello Mai visto Nella storia degli zoo Quindi ci fermiamo così Per questo video Qua sotto come sempre Come altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao